Ho avuto modo di parlare personalmente con Maria Romana De Gasperi non più di un paio di mesi fa. Si ragionava sulle celebrazioni per il quarantennale della Fondazione De Gasperi, da lei fortemente voluta proprio per tenere vivo il ricordo del padre e per creare in Italia occasioni di promozione della cultura e degli ideali di De Gasperi. E nell'occasione di quell'incontro mi invitava Maria Romana De Gasperi a occuparmi soprattutto di diffondere la conoscenza delle figure storiche per il nostro paese, per la nostra Repubblica e i loro valori fra le nuove generazioni, per le nuove generazioni e i nostri studenti. E proprio raccogliendo il suo invito, qualche settimana fa abbiamo organizzato in Università Cattolica un evento nel quale abbiamo presentato le Figlie della Repubblica, una bella iniziativa della Fondazione De Gasperi proprio per avvicinare i giovani con strumenti adatti ai giovani, realizzando così io credo una delle finalità e delle volontà anche ultime di una figura così importante per il nostro paese, non soltanto quella del padre ma anche quella della figlia Maria Romana.